A fronte dell'assenza e delle mancate risposte di Eurospin e del gruppo Eurospin, che come sappiamo tutti sono cinque società nel nostro territorio, Abruzzo Molise e c'è Eurospin Lazio, è la società di riferimento, a fronte della loro totale assenza alle nostre richieste, alle nostre richieste di confronto per andare ad affrontare quelle che sono le problematiche dei lavoratori che vivono ogni giorno sui punti vendita, siamo stati costretti a livello nazionale come organizzazioni sindacali unitarie a proclamare lo stato di agitazione con il blocco dei supplementari e dei straordinari di tutte le lavoratrici e lavoratori del gruppo. Questo perché? Perché è chiaro che il nostro intento è portare il gruppo Eurospin a sedersi a un tavolo di trattative per affrontare le problematiche da noi esposte, perché sono davvero condizioni inaccettabili da parte dei lavoratori, con violazione delle norme, dei contratti collettivi nazionali, parlo delle cause elastiche flessibili, dei livelli di inquadramento di tutti quei lavoratori che svolgono mansioni di concetto e quindi superiori che sono inquadrati come addetti alle vendita, oltre che conciliazioni di tempi di vita, lavoro, famiglia delle lavoratrici madri. Purtroppo Eurospin ignora tutto questo, nonostante è un'azienda che ha un utile di esercizio stratosferico e si pensi che a fronte di un utile di esercizio che supera i 75 milioni di euro, nonostante loro i punti vendita sono di proprietà, quindi hanno un'immobilizzazione anche del patrimonio immobiliare, nonostante ciò Eurospin non investe sui lavoratori e pensare che Eurospin guadagna sui lavoratori più di quello che il lavoratore guadagna da salario da Eurospin. Prossimo step, se l'Eurospin continuerà con questa condotta di assenza totale, di mancato recepimento di quelle che sono le richieste di organizzazioni sindacali, è chiaro che si arriverà a una prima giornata di sciopero che verrà comunque comunicata e proclamata brevissimo a fronte della mancata risposta. Qualora invece l'Eurospin decidesse di sedersi al tavolo e di affrontare effettivamente tutte le numerose problematiche che hanno i lavoratori, è chiaro che andremo a fare una valutazione insieme ai lavoratori stessi e decidere il da farsi. Grazie.